Condannato a 10 anni di reclusione, Gerardo Presta è il 54enne di Sapri accusato di essere a capo di un'organizzazione che spacciava droga nel Golfo di Policastro. Ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha emesso la sentenza per i coinvolti nell'inchiesta che avevano scelto il giudizio abbreviato. Oltre che per Presta, sono arrivate le condanne anche per altri pusher e corrieri, principalmente del Golfo. 6 anni e 8 mesi sono stati combinati al 41enne Cristian Buda, residente a Sapri, e a Raffaele Nilo, 39 anni, originario della cittadina ma residente a Frosinone. 5 anni e 4 mesi sono andati al 35enne Francesco La Terza e al 64enne Graziano Liberti, entrambi sempre di Sapri. 3 anni al 37enne Dieboli Rocco Autuori, 3 anni e 6 mesi al 40enne Fabio Cataldo Di Sapri e 2 anni e 4 mesi a Fortunato Grasso, 36 anni Di Sapri. Quest'ultimo è stato assolto per il reato associativo. Assolto perché il fatto non costituisce reato, invece Carmine Disperso, che non era stato raggiunto da misure cautelari. Per tutti gli altri indagati nella vicenda si dovrà procedere con il giudizio ordinario. Il giro di droga venne scoperto con un blitz dei carabinieri nel febbraio di quest'anno. Presta, che vanta legami di parentela con un esponente di un'andrina calabrese e contatti con vari spacciatori del Golfo e della Piana, aveva organizzato una rete di spaccio che si riforniva a Giuliano da due coniugi settantenni collegati ad alcuni pusher extracomunitari operanti nel casertano. La roba arrivava con i corrieri a Sapri e veniva ceduta sul lungomare dove i pusher arrivavano in bicicletta e utilizzavano spesso anche vecchie cabine telefoniche ancora attive per comunicare tra loro. Presta coordinava il tutto da casa dove si trovava gli arresti per un'altra vicenda di droga. Nel 2015 infatti era stato sorpreso in autostrada con un chilo di hashish. Proprio in carcere dai colloqui tra Presta e un familiare iniziarono nel 2015 i rilievi dei militari che scoprirono così che nonostante i domiciliari Presta continuava a gestire il traffico di droga da Sapri. L'eroiner, la droga maggiormente richiesta, è venduta circa 40 euro per dose anche ai più giovani.